Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, i titoli principali dell'edizione di oggi. Nel pomeriggio in via del ciclamino è sopra al luogo per valutare le modalità dell'incidente probatorio. L'obiettivo è stabilire se l'uomo ripreso dalle videocamere della farmacia fosse davvero da Silva. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato l'ergastolo per Simone Benedetto Vultaggio che nel 2022 a Rimini uccise la compagna con 51 coltellate. Ci sarà il ricorso in Cassazione. Per l'aeroporto Fellini di Rimini un nuovo collegamento con abili online i biglietti per i voli su Heathrow con la British Airways. Calcio. Domani sera è Rimini impegnato a Vicenza negli ottavi di Coppa Italia di Sevierci. Il tecnico Boucher annuncia un turnover limitato. Si è svolta nel pomeriggio la prima fase dell'incidente probatorio per stabilire se l'ignoto che passa davanti alla telecamera della farmacia San Martino poco dopo il delitto di Perina Paganelli sia realmente Luis da Silva. Un esperimento unico nel suo genere quello effettuata alla presenza del GIP Vinicio Cantarini perché si è svolta e si svolgerà fuori da un'aula di tribunale e perché avrà bisogno anche del consenso dell'indagato per decretarne l'effettiva riuscita. Luis da Silva infatti dovrà consentire passare davanti alla telecamera della farmacia la stessa che secondo la squadra mobile di Rimini e il sostituto procuratore Daniele Paci la sera dell'omicidio lo riprese mentre tornava a casa dopo aver gettato l'arma del delitto. È per questo motivo che alla farmacia San Martino sono arrivati i tecnici e i periti delle parti per stabilire la fattibilità dell'esperimento. Noi siamo fiduciosi che questo esperimento giudiziale porti a galla una verità che noi reputiamo tale da tempo. Luis ha già preso il consenso a svolgere l'esperimento giudiziale ovviamente bisogna che ci rendiamo conto di quali siano le condizioni attraverso le quali può avvenire questa comparazione. L'incidente probatorio è stato richiesto dalla procura di Rimini quando è emerso che un condomino di via del ciclamino si era riconosciuto in alcuni filmati ripresi dalla stessa telecamera seppur in giorni diversi dal 3 ottobre. Sul posto per il sopralluogo tecnico alla farmacia erano presenti i consulenti della difesa di Da Silva, ossia il perito Massimo Giuliani e Massimo Zonavo, Fabrizio Corradadamo della polizia scientifica e il maresciallo del Ross di Ancona Francesco Lobè farò per la procura, il generale del RIS Luciano Garofano accompagnato dal consulente Davide Barzan, per la nuora Manuela Bianchi e il super esperto nominato dal GIP Cantarini, Sebastiano Battiato, oltre al tecnico nominato degli avvocati Monica e Marco Lunedè della famiglia di Pierina, l'ingegnere Davide Albini. La prossima tappa di questo esperimento giudiziale si terrà sempre in via del ciclamino quando Da Silva, se dovesse confermare il consenso, verrà fatto sfilare davanti alle telecamere e infine, dopo 60 giorni, con un'udienza in tribunale per la relazione conclusiva sull'identità dell'ignoto ripreso dalla CAM3. E' stato confermato l'ergastolo per l'assassino di Cristina Peroni che uccise la compagna con 51 coltellate. Il legale dell'imputato annuncia il ricorso in Cassazione. Nessuno sconto, nessun ripensamento. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato l'ergastolo per Simone Benedetto Vultaggio, il 48enne riminese che il 25 giugno del 2022, nell'abitazione di via Rastelli a Rimini, uccisa a colpi di mattarello e con 51 coltellate la sua compagna, nonché madre di suo figlio all'epoca di nemmeno 5 mesi, la 33enne romana Cristina Peroni. Il difensore di Vultaggio, l'avvocato Massimiliano Ru, aveva impugnato la sentenza della Corte d'Assise di Rimini del 4 dicembre scorso. In appello, con l'udienza che si è svolta proprio nella giornata contro la violenza sulle donne, i giudici bolognese hanno confermato le quattro aggravanti contestate all'imputato, ovvero l'aver agito per futili motivi, con crudeltà, durante la convivenza e nell'ambito dei maltrattamenti, senza riconoscergli le attenuanti generiche. Vultaggio che in passato aveva minacciato e aggredito Cristina in più occasioni, anche mentre l'incinta, temeva che la donna se ne andasse definitivamente, portando con sé anche il figlio. Così quella mattina, al culmine dell'ennesima lite, la uccise con inaudita ferocia. L'avvocato Ru ha già annunciato il ricorso in Cassazione per una valutazione sulle questioni di diritto, che ha dichiarato, ci auguriamo trobino maggior spazio. Il 48enne riminese, presente in aula al momento della lettura del dispositivo, non è parso affatto sorpreso dalla decisione della Corte. Dal carcere dei casetti di Rimini, dove tuttora detenuto, continua a chiedere costantemente notite del figlio affidato alla nonna materna. A tal proposito, sono in corso trattative tra legali, di parte civile difesa, per gestire un eventuale ravvicinamento delle due famiglie nell'interesse del minore. Sul tetto della sede della provincia di Rimini, in via Dario Campana, è stata installata un'antenna per la telefonia mobile. È l'impianto inizialmente previsto in via Argilli, nella vicina zona in a casa, contro il quale si era stata un'accesa protesta dei residenti. Antena poi spostata dopo la trattativa tra amministrazione comunale e Iliad. Ma il comitato dei cittadini, pur prendendo atto della collocazione meno impattante visivamente e questa volta su uno spazio pubblico, resta critico anche sulla nuova scelta. Un'eccessiva vicinanza con siti sensibili o abitazioni è da evitare per il principio di precauzione, ribadisce il comitato, che chiede anche di essere informato sulle rilevazioni effettuate in merito all'impatto elettromagnetico. Parliamo di voli. Dopo EasyJet arriva un'altra importante compagnia per l'aeroporto di Rimini. Quindi si tratta della British Airways che collegherà l'aeroporto di Miramare con Londra Heathrow. Nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere una conferenza stampa per l'annuncio di un nuovo collegamento con un'ab internazionale, poi rimandata, arrivano prima dal sito della British Airways e poi, con una nota della regione, novità importanti per l'aeroporto di Rimini. Sono stati messi in vendita infatti i voli per Londra Heathrow, scalo principale tra i nove che servono la capitale inglese e il più trafficato d'Europa. I collegamenti dal Fellini saranno tre a settimana, lunedì, giovedì e sabato, dal 15 maggio al 27 settembre. L'aeropobile, un Airbus da circa 180 posti. Un nuovo ingresso nel cartellone voli del Fellini, che fa seguito all'arrivo di EasyJet, annunciato nelle scorse settimane, con i collegamenti da aprile ad ottobre con Basilea e sempre con Londra, ma sullo scalo di Gatwick, entrambi bisettimanali, mercoledì e domenica. Sulla capitale inglese, da giugno a settembre, vola anche Ryanair, che serve lo scalo di Stansted. Con tre diverse compagnie a collegare Rimini, con tre diversi scali londinesi, il territorio sembra quindi puntare forte sul mercato d'oltre manica. Ancora di più se dovessero arrivare anche destinazioni come Manchester o Newcastle, che negli ultimi mesi erano state accostate proprio al Fellini. Lo sbarco della British è sicuramente un bel colpo per iRiminum e per l'atteso salto di qualità dello scalo, che, commenta l'assessore regionale al turismo Corsini, prosegue deciso nel suo piano di sviluppo pluriennale, che lo renderà sempre più hub strategico al servizio di tutto il territorio regionale. Grande soddisfazione anche da parte di APT e del Comune di Rimini, col sindaco Sadegolvad, che chiede ora di accelerare nella promozione della destinazione per riempire tutti i mezzi, ricordando anche i treni giornalieri annunciati ieri da Germania e Austria. L'arrivo di British Airways, chiosa l'amministratore delegato di Airiminum, Corbucci, dimostra che gli sforzi intrapresi sono corretti e offre la possibilità di sviluppare il traffico business e collegare Rimini a tutto il mondo. Partiranno mercoledì i lavori di messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali in via Coveniano a Rimini, nel tratto tra via Iano Planco, via Panzini e la statale adriatica. L'intervento sarà eseguito in orario notturno, dalle 20 alle 5 del mattino successivo, per contenere i disagi sulla mobilità. Si tratta dell'avvio di una sperimentazione che il Comune di Rimini intende avviare su strade con caratteristiche adeguate, grazie a una delibera regionale che prevede la facoltà di ricorrere per i lavori notturni a una autorizzazione inderega. Sala piena ieri al Cinema Fulgor di Rimini, con tante persone anche da fuori provincia, per l'incontro con Eva Kyle, tra le più note urbaniste di genere. Invitata da Comune e Associazione Palloncino Rosso, nell'incontro dal titolo Tutta mia la città, si è provato a ripensare gli spazi pubblici partendo dalle donne. Le città hanno un vestito da uomo, sono state pensate dagli uomini affinché altri uomini le attraversassero in auto per andare al lavoro. Parte da questo sguardo la rivoluzione di Eva Kyle, urbanista di genere e di fama internazionale, per rendere gli spazi pubblici più inclusivi e accessibili. Dopo la sua VN il modello è stato esportato in tante città d'Europa e del mondo. La sua presenza a Rimini è stata un'occasione preziosa per riflettere come i luoghi siano espressione di cura per le persone. Sappiamo che le strutture urbane e anche tutte quelle che sono le condizioni della mobilità si influenzano a vicenda in maniera molto significativa. Tutto questo ovviamente ha un impatto, è fortemente impattante per la qualità della nostra quotidianità. Quindi pianificare una città con un occhio sensibile a quelle che sono le esigenze di genere significa prendere in considerazione tutti questi aspetti, tutto ciò che differenzia la città in termini di condizioni di vita, in termini di età, in termini di esigenze, di bisogni, in termini di comportamenti sociali e via dicendo. Non vogliamo una città calata dall'alto, ma vogliamo una città che risponde ai bisogni dei cittadini e in particolare di quelli più fragili, quindi donne, bambini, anziani e portatori di handicap. Rimini nel suo piccolo sta già facendo delle esperienze per ripensare lo spazio pubblico appunto con uno sguardo che sia più inclusivo, uno sguardo non solo di donna ma anche magari di bambino che gioca in degli spazi pubblici, di bambine che magari hanno bisogno di aree gioco diverse da quelle dei ragazzi, ma anche di persone che magari hanno delle difficoltà motorie. Per la CAIL, prima del convegno al Cinema Fulgore, anche la possibilità di una piccola passeggiata in città, in particolare in zona mare. Mi ha colpito in maniera molto positiva, sono stata nella zona un po' della costa, quindi diciamo nel lungomare di Rimini e mi ha colpito moltissimo questa grande sensibilità che la città riserva ai vari gruppi sociali. Mi ha colpito moltissimo anche la zona, le varie stazioni di workout che si trovano sul lungomare. Il fatto per esempio che venga promosso la circolazione dei pedoni, quindi le aree pedonali che sono molto presenti nella città, perlomeno nel centro storico. Il fatto che venga promosso anche il cicloturismo. Ecco, tutto questo rientra in un concetto che io definirei un concetto di sostenibilità. Siamo al calcio. Il Rimini lo scorso anno nella Coppa Italia di Serie C eliminò il Vicenza ai quarti di finale e il duello, questa volta per gli ottavi, si rinnova domani sera sempre al Menti con calcio d'inizio alle 20.30. Mancherà il grande ex Claudio Morra, bomber del Rimini della passata stagione e quest'anno in forza la Lane Rossi. Ascoltiamo la vigilia del tecnico del Rimini Antonio Boucher. Andremo a affrontare una gara molto molto difficile con una squadra che ha blasone, una squadra che lotta per vincere il campionato, quindi a pochi punti dalla prima e quindi sappiamo che sarà una partita molto molto difficile. Partita dentro fuori, quindi noi ci teniamo a fare bene, anche perché è una bella vetrina per tutti e una partita che comunque ti permette di, se l'approcci bene, magari riesci a fare anche risultato e in vista della prossima di campionato comunque ti dà forza, fiducia e energia. Quindi andremo lì sicuramente a cercare di portare a casa il passaggio del turno, quindi avremo le idee abbastanza chiare di quello che dobbiamo fare. Non credo di fare tanto turnover, nel senso vedremo comunque in campo giocatori che fino a due o tre settimane fa erano titolari, quindi titolari, hanno giocato partite dall'inizio. L'infermeria De Vitis e Chiarella, Chiarella si è dovuto rifermare, niente di grave, una decina di giorni Marco deve stare un attimino tranquillo, fare un lavoro a parte. De Vitis piano piano sta recuperando e poi abbiamo Cioffi che è squalificato, quindi sono tutti a disposizione. Magari tipo un Garetto che due partite che non gioca, magari Garetto domani partirà dall'inizio, come può partire dall'inizio Fiorini, quello che dicevo prima. Sono ragazzi che hanno fatto tante partite dall'inizio, sono dei titolari. Lo stesso Malagrida che comunque fino all'infortunio era un giocatore che in quelle partite che ha giocato è sempre partito dall'inizio, ci sta che domani magari partirà anche lui dall'inizio. Vediamo. Nel provare anche oggi vedo che calcia bene Mega e lo stesso Langella, quindi però sai durante gli allenamenti è un conto, quando ti trovi sul dischetto è una partita che conta, è diverso. Parigi li tira bene, Parigi li tira bene ma anche Ubaldi, quindi vedremo, dovesse succedere domani in corso della partita, dipende chi giocherà uno dei due e andrà sul dischetto. Questa sera alle 21.40 l'appuntamento su Icaro TV del martedì con Icaro Volley. Siamo in conclusione, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it e la nostra piattaforma video Icaro Play. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione. L'augurio di una buona serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.